Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di scommessa al fantacalcio Ossia quei giocatori da puntare alla prossima asta per completare il nostro reparto Spendendo pochi crediti ma che hanno un potenziale molto interessante Il cui investimento è poco rischioso Ma se esplodono possono cambiare le esorti della nostra stagione al fantacalcio Prima però di fare i nomi, se non hai fatto Iscriviti a questo canale se vuoi vincere il fantacalcio Perché troverai una marea di contenuti interessanti e di qualità su questo canale Soprattutto se vuoi scoprire chi saranno i nuovi top, le scommesse vincenti Chi sarà il nuovo Good Munson Iscriviti a questo canale e non perderti nessun nuovo contenuto Lascia poi un like per supportare questo video In descrizione trovi tutti i link per supportare concretamente questo canale Come link per abbonarti, si parte da 1,99€ al mese Ci sono tanti vantaggi, tra cui ad esempio accesso in anteprima Alcuni contenuti e accesso anche alle mie fasce Dove troverai quest'anno le mie fasce? Le trovi su Fantalab Link di Fantalab in descrizione Attenzione ragazzi Fantalab è particolarmente consigliato per dominare l'asta Il tool costa solo 9,99€ al mese Se ti registri dal mio link Oppure se sei già registrato Utilizzi il codice sconto Creator Fantavirus Prima dei nomi faccio anche il punto Sui fantacalcio degli abbonati In questo momento abbiamo chiuso le iscrizioni del Classic Per il mantra c'è ancora qualche posto Se sei interessato a partecipare Per notare il tuo posto abbonandoti al canale A livello pro a soli 3,99€ al mese Partiamo adesso con le scommesse Il primo nome è un difensore Al secondo anno di Serie A Jordan Zemura dell'Udinese L'approccio con il massimo campionato italiano Complice il persistente dualismo con Camara Non è stato molto brillante Ci sono stati momenti in cui ha dimostrato di poter giocar titolare Con una certa tranquillità Altri in cui ha praticamente osservato i compagni dalla panchina E complice l'inesperienza A un certo punto i friulani Dovevano pensare con urgenza a salvarsi E hanno dovuto mettere da parte l'estro di alcuni giocatori Per ritrovare la giusta concretezza Per fare punti salvezza Al detto di ciò La sua non è stata un'annata completamente negativa Qualcosa di buono quando ha avuto licenza di spingere L'ha lasciata intravedere E in futuro ha tutto per poter essere un giocatore interessante In chiave fantacalcio Al momento però non possiamo azzardar nulla Voliamo bassi Il pre-campionato sarà molto utile E ci potrà dire Se questa sarà la classica scommessa Da ultimi slot A uno o due crediti O se effettivamente Può garantire numeri migliori Per adesso mettiamo il suo nome fra le scommesse Con la speranza di poter riparlare Tra qualche settimana di lui Visto che senza dati concreti È evidente che consigli più precisi e spinti Non possono arrivare Secondo nome Buchanan dell'Inter Arrivato lo scorso gennaio Ha dimostrato di non essersi subito integrato Ma come esterno a tutta fascia Le qualità offensive Per far bene le ha Sia chiaro Parte come riserva E da tale va considerato Ma se riesce a diventare il primo cambio Su una delle due corsie Il minutaggio Per lui Può essere molto importante E considerando Che la squadra è nera-azzura A livello offensivo Potrebbe avere una marcia in più Rispetto alle altre rivali Ecco Che molte chance da bonus Potrebbero nascere Sul finale di partita Da capire Come sarà listato Se difensore o centrocampista Ma a prescindere dal ruolo Come scommessa Un credito Il rischio ci sta tutto Anche perché bisogna essere consapevoli Che il suo È un cammino a lungo termine Maglia nera-azzurra Non è detto che incida Quest'anno Ma potrebbe volerci Ancora un po' di tempo Tra i centrocampisti Includo anche Tommaso Pobega Del Milan L'ex Torino E Spezia Viene da un lungo infortunio Che ha compromesso La sua ultima stagione È il classico nome scommessa Che potrebbe essere acquistato Un solo credito Nel corso delle prime aste di agosto Questo è un nome che propongo Perché non escludo Che possa lasciare Rossoneri in estate Al Milan È una riserva Ma se cambia squadra Se si trasferisce In un altro club Di Serie A Può affermarsi Come titolare E pescare Un prezzo Irrisorio Il Jolly Pobega Che è una mezzala Box to box Che sa inserirsi Molto bene negli spazi Che vede bene la porta Può essere l'arma in più Per vincere il fantacalcio Poi Può andar bene Può andar male Ma se preso a uno Non compromette La vostra stagione Al limite Lo svincolate Alla prima occasione utile Se non ci saranno Le novità In chiave calciomercato Come quarto nome Brenner dell'Udinese Può essere lui Un'interessante scommessa Da puntare Alla prossima stata Del fantacalcio Lo scorso anno Quando è arrivato È arrivato in pompa magna Esaltato Da tanti Ma complici Un grave infortunio Al tendine Accusato del precampionato Ha dovuto Fare i conti Con problemi Su problemi Che gli hanno impedito Di poter essere utile Alla causa friuliana E anche Ai fantalenatori Che avevano puntato Su di lui Inoltre Ha perso Un po' di punti Nelle gerarchie offensive In caso di Inese Poteva essere un titolare Ma Lucca si è preso Il posto dei cento avanti E come seconda punta Ha avuto poco spazio Il brasiliano Andrà valutato Attentamente In questo precampionato E non è neanche escluso Un ritorno in Brasile Lo status di scommessa Attualmente Permette di investirci Piccole porzioni Di budget Che consentono Di limitare Le eventuali Conseguenze negative Sulla propria rosa Sulla base Dell'investimento Effettuato Poi comunque In queste settimane Avremo modo Di seguirlo meglio E capire Se può dare o meno Un contributo Importante Al fantacalcio Per concludere Vi parlo Di un altro Attaccante Santiago Castro Del Bologna Si tratta di Un attaccante Giovanissimo Che ha lasciato Già intravedere Doti importanti La società Rosso-Blu Punta molto Su di lui Per il futuro E non escludo Che possa continuare Il suo cammino Di crescita Rendendosi protagonista Sin da subito Non parte Come titolare Sicuramente Nelle prossime settimane Andrà analizzato In maniera Impeccabile Il listone Ma soprattutto Ad agosto Per completare Il reparto Una semplice puntata Di un credito Ci può stare Poi ovviamente Bisogna vedere Come va Ma con il Bologna Impegnato in Champions League Con un alleatore Come Vincenzo Italiano Che ama Ruotare I suoi giocatori Non si esclude nulla Il giovane Sudamericano Potrebbe avere Un minutaggio importante Non di primissimo piano Ovviamente E perché no Segnare qualche gol Ma un po' Come tutti I giocatori Analizzati in questo video Il precampionato Ci darà indicazioni Più precise Sulla sua possibile Gestione al fantacalcio Bene ragazzi Il video di oggi Finisce qui Continua La nostra guida All'asta del fantacalcio Per la stagione 2024-2025 Vi aspetto domani Con un altro imperdibile contenuto Sempre su questo canale Sempre allo stesso orario Ore 11.30 Ciao a tutti All'asta del fantacalcio All'asta del fantacalcio All'asta del fantacalcio Grazie.